A Montegranaro convegno della CISL che indica nella sostenibilità sociale e ambientale i motori per lo sviluppo economico delle marche. Cesarina Trillini. Il primo è fondamentale a investire nei servizi per l'infanzia e sulla scuola. Quindi potenziare i nidi, potenziare i servizi appunto nelle fasce di tempo pieno della scuola e così via perché abbiamo bisogno di potenziare il nostro capitale umano. Eccola la priorità degli investimenti da fare nella regione e in generale nel paese. Un migliore sviluppo economico che passa da un migliore sviluppo sociale sul capitale umano del futuro e che passa anche da un territorio fragile sul fronte ambientale rappresentato dall'Appennino che deve diventare un punto di forza. Vuol dire raggiungere mete dove ci sono beni culturali in modo intelligente e sostenibile che può essere prima in macchina, poi in navetta, poi a piedi o in bicicletta. Significa trovare e pensare al Made in Italy legato ai beni culturali e all'identità territoriali che ci sono. È la CISL che in un territorio alle prese con decine di vertenze e con le ferite del terremoto cerca soluzioni per rilanciare l'economia delle marche rispettando il destino delle persone, ad esempio nelle ristrutturazioni aziendali e cercando anche nella salvaguardia dell'ambiente un motore di ripartenza, sostenibilità sociale e ambientale che si accompagnano e la sfida allo sviluppo economico. Che siano associazioni sociali, che siano realtà economiche, che siano quelli che hanno il compito di governare la regione. Unire intelligenza è la vera sfida che ha di fronte una realtà come quella marchigiana ma che in fondo caratterizza come impegno anche la realtà italiana.